A Parigi non solo cardato rigenerato CO2 neutral, a Premier Visione la principale manifestazione internazionale dedicata al tessile, lo stand della Camera di Commercio di Prato ha suscitato l'interesse di numerosi visitatori anche grazie al lancio della nuova piattaforma progettata dal MIT di Boston e dedicata al distretto pratese Fashion Valley, promossa attraverso la proiezione di un video in due appuntamenti giornalieri. Si tratta di una piattaforma innovativa progettata per creare una rete tra le aziende del territorio dell'intera filiera, allo scopo di metterle in contatto con le esigenze di marchi emergenti, giovani stilisti ma anche con le catene distributive che hanno esigenza di produrre in tempi rapidi, in quantità variabili, in maniera personalizzata e con un occhio particolare alla qualità. Un'iniziativa che insieme alla seconda edizione del Made in Cardato Contest ha acceso l'interesse di aziende ed operatori di settore.